Federico Buffa racconta la leggenda di Inaki William. La leggenda di Inaki William, detto anche Peselloni Inaki, nasce a Catania, nel largo, lontano 2016, quando il famoso Gianluca Gamer, noto youtuber americano, spopola con il video osculato in oro 3. In quel pic Gianluca trovò Inaki 84, colui che sarebbe diventato uno dei giocatori più forti al mondo. La leggenda narra che i suoi amici, famosi altri youtuber, Mr. Alabona e il Milanista07, lo prendevano per il cosiddetto culo perché, dicevano, Inaki non sarà mai forte. Ma loro non sapevano quello che sarebbe successo a breve. Su FIFA 21, Inaki diventa il giocatore più forte del gioco. Tanto che il suo allenatore, il famoso Gianluca Gamer 96, dirà di lui questa perla. Inaki la palleggia con la terza gamba, poi la mette in rete come quando la metta una donna nel culo. Come dice proprio il suo allenatore, Inaki, il fenomeno Inaki William, è solito segnare dopo aver palleggiato con la terza gamba. Terza gamba che non vede mai nessuno, soprattutto gli avversari. Terza gamba che non si sa se è una gamba o se è un qualcosa di inaspettato grande quanto la torre Eiffel. Dove continuerà ad andare il nostro Inaki William non lo sappiamo. Se il nostro allenatore cambierà il possente Inaki William con un Cristiano Ronaldo non lo sappiamo. Questa è un'altra storia. Ma Inaki William continuerò a segnare in VL palleggiando con la sua terza gamba immaginaria.